Ciao ragazzi oggi vi do il benvenuto dalla mia camera da letto perché questa intro un po' così un po' buffa perché oggi andremo a domotizzare la mia rete di doghe in legno elettrica come lo faremo attraverso uno strumento che andrò a recensirvi e adesso ragazzi guardate Alexa mi alzo come potete vedere ecco qua che mi si apre la tapparella al mattino che mi dà sempre una botta di vita proprio ragazzi e in automatico mi si sta alzando non so se è riuscita a vedere anche la rete con le doghe ecco qua che ci stiamo alzando come i vecchi ragazzi ma a me più che altro mi serve per leggere le notizie e per vedere il cellulare quindi seguitemi dopo la sigla eccoci ragazzi tornati a una posizione un po' più consona quindi nel nostro studio bene adesso vi svelerò come fare a far quello che avete visto allora prima di tutto utilizzeremo un switch bot come potete vedere qualcuno di voi dirà ma questa non è una novità assolutamente no però diciamo gli switch bot possono arrivare là dove molta tecnologia domotica non arriva mi spiego meglio questa non è domotica però è una soluzione veloce che vi consente di arrivare al risultato perché ho usato questo? ho usato questo perché il mio telecomando che potete vedere qua delle doghe in legno è un telecomando un po' particolare in quanto è difficile da clonare ad esempio con un broadlink quindi è difficile intercettare gli infrarossi quindi di conseguenza essendo un telecomando a 2.4 GHz ho preferito utilizzare uno switch bot collegato come potete vedere altri comandi in questa maniera per alzare la mia rete elettrica in maniera automatica al mattino però non basta questo perché lo switch bot vi ricordo che è bluetooth è vero che è integrato ormai in automatico mettiamola così in home assistant ma è anche vero che se voi home assistant ce l'avete al piano sotto per esempio come nel mio caso il bluetooth magari può non arrivare ed è per questo che ho usato l'espon bluetooth proxy quindi oggi vedremo anche quello non solo la mini recensione dello switch bot quindi ragazzi adesso iniziamo con la recensione dello switch bot andiamo a vedere nel concreto lo switch bot ora ve lo faccio vedere nel dettaglio da questa parte allora all'interno della confezione troverete praticamente solo lui lo switch bot non è necessario per quello che vi devo far vedere oggi comprare anche il suo hub perché vi ricordo che ha un hub all'interno appunto lo switch bot con la possibilità di togliere la parte per farlo funzionare la batteria fa collegare le batterie e questo è l'adesivo in dotazione già presente dove si può appiccicare nel mio caso come l'ho già fatto al telecomando qua abbiamo altre opzioni ovviamente quindi sarà possibile andare a utilizzare questo tipo di feltri feltrine diciamo per collegare ad esempio dei tasti proprio fisici piuttosto che quelli appunto della luce ma non è questa la domotica che vogliamo fare noi diciamo oggi vi faccio vedere questa cosa qua semplicemente perché questa è una scorciatoia molto interessante per andare a domatizzare una cosa difficilmente domatizzabile in altre maniere ok quindi la confezione praticamente c'è dentro solo questo con il suo libretto bene quindi questo ci basterà poi andare a posizionarlo come ho fatto io come potete vedere qua adesso torniamo alla visuale normale come potete vedere qua direttamente sul telecomando il tastino che andrà a schiacciare in questo caso la rete per tirarmi sulla rete e farmi salire di schiena bene questa è un'installazione molto banale quindi non ci vorrà niente ad effettuarla potete prenderne un altro se volete farla anche scendere in maniera automatica ma a me non mi interessa non interessa più che altro la salita molto bene allora vi dicevo è bluetooth quindi adesso andremo vi faccio vedere come è l'app e come si configura prima di tutto prima ancora di poi far vedere tutto il processo per su un ESP32 andare a installare l'espo bluetooth proxy che vi permetterà appunto di poterlo portare questo switchbot dove volete ok andiamo a vedere l'app di gestione di switchbot quindi io l'ho già installata l'app in realtà appena si aprirà troverà immediatamente le periferiche quindi in questo caso io ho quello lì è già quello collegato al telecomando questo è quello nuovo mi basterà togliere la batteria quindi il contatto e vedete che l'ha già trovato quindi è il bot 6e in questo caso qua quindi andiamo che vi faccio vedere non so se avete visto il tastino che è uscito che si muove ve lo faccio vedere meglio nel momento in cui io clicco funziona già ok quindi questo è una modalità veramente semplice per accoppiarlo poi all'interno abbiamo appunto le opzioni tra cui la possibilità di che tipo di modalità è collegata volete utilizzare in base al pulsante che deve premere quindi se deve tenere premuto appunto il pulsante per un determinato periodo come nel mio caso gli ho impostato n secondi piuttosto che se deve solo schiacciarlo e basta quindi questa potrebbe essere una cosa molto utile la modalità bottone c'è anche a livello di tenere premuto c'è anche la modalità proprio interruttore ma ve lo sconsiglio caldamente di utilizzare lo switchbot in modalità diciamo interruttore ecco ci sono degli accessori c'è la possibilità di programmarlo c'è la possibilità di bloccarlo con una parola d'ordine ovviamente aggiornare il film e vedere la batteria e quant'altro quali sono le informazioni che poi verranno per l'app abbiamo finito qua quali sono le informazioni che poi verranno riportati invece su ha sono appunto la possibilità di premere lo switchbot quindi di azionarlo a seconda della modalità impostata da app e la percentuale di segnale e anche il livello di batteria poi il passo successivo adesso è installare l'espom.bluetooth proxy direttamente sul nostro esp32 quindi dovremmo seguire questi passi allora dobbiamo andare per prima di tutto su questa pagina che ci consentirà di installare sul nostro esp32 appunto l'espom.bluetooth proxy allora adesso vi faccio vedere anche che abbiamo già installato o meglio installato collegato il nostro esp tramite micro usb al computer adesso darò alimentazione all'esp ok come potete vedere si è accesa anche la lucina e possiamo effettuare appunto questa installazione direttamente dal sito che state vedendo selezionando generic esp32 nel nostro caso e tramite browser supportati quindi noi stiamo utilizzando chrome andare a provare a connetterci quindi proviamo ad effettuare ok ha trovato tramite la porta com 5 gli diamo l'ok si sta connettendo possiamo dirgli di installare un esp32 generico confermiamo l'installazione e attendiamo appunto il completamento ok adesso sta sta cancellando e sta installando come potete vedere il il nostro bluetooth proxy sull'esp attendiamo adesso il termine del processo ok ha terminato installazione completata non ci resterà che digli il nostro wifi al quale vogliamo farlo connettere se non non vi da diciamo le indicazioni qua basterà scrivere direttamente il nostro network name e la password quindi adesso la scriviamo ok come potete vedere sta configurando il wifi e sta cercando di connettersi direttamente al wifi nostro ok e qua volendo cliccando to add to home assistant potremo già averlo in home assistant mai in questo caso io vi consiglio di fare skip e poi vi farò vedere proprio in home assistant come andarlo ad integrare con la procedura classica ok quindi qua abbiamo una serie di altre opzioni che possiamo una volta che abbiamo installato appunto il bluetooth proxy se possiamo fare direttamente da questa pagina web quindi adesso qua chiudiamo e trasferiamoci poi in home assistant per vedere il resto della configurazione una volta che abbiamo appunto installato il bluetooth proxy lo mettiamo vicino più o meno a nostri switch bot lo colleghiamo gli diamo alimentazione lui si collegherà in wifi automaticamente anche al nostro ma si sta come fare questo allora ci basterà andare su le impostazioni andare nei dispositivi servizi e comparirà qua vedete a me già rileva uno switch bot ma comparirà anche questo esp 32 bluetooth bluetooth proxy quindi vi basterà semplicemente aggiungerlo come ho fatto io vi darà un entità ma questa entità non vi serve nello specifico una volta che avete aggiunto questo blocchetto automaticamente vi arriverà a tutte quelle periferiche bluetooth per esempio a me ha rilevato appunto lo switch bot ha rilevato l'albi lo spazzolino piuttosto che anche gli ab con tracker che sa farà un'altra puntata su questi simpaticissimi oggetti che sono questi vi faccio vedere da vicino che servono per tracciare degli oggetti ok quindi una volta che abbiamo fatto questo ci basterà andare a configurare il nostro bot e a dargli un nome io ce n'ho già uno configurato che è questo che è quello precedente e come potete vedere cosa ci dà a disposizione ci dà a disposizione la possibilità di alzare o abbassare la nostra rete nello specifico questo bot la alza invece per abbassarla servirà l'altro ci dice la batteria rimanente del nostro del nostro switch bot e la potenza del segnale rispetto appunto all'esp32 che ci sta facendo da proxy quindi con queste semplici cose siamo riusciti di fatto a domotizzare un una nostra rete tramite il suo telecomando non è come vi dicevo dall'inizio del video la domotica che a noi piace però ci tenevamo comunque a fare un video farvi vedere anche questa possibilità che di fatto vi risolve un problema quindi ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto vi invito a lasciarci dei like se vi sia piaciuto iscrivervi al canale e vi ricordo che da poco sono attivi anche gli abbonamenti con tanti vantaggi quindi vi invito a dare anche qui uno sguardo alla nostra sezione abbonamenti con questo è tutto ragazzi e vi saluto e vi ringrazio ciao alla prossima